Ciao a tutti ragazzi sono Yakidale e oggi siamo qui in un nuovo episodio della serie di Minecraft Pocket Edition Nello scorso episodio avevamo iniziato la costruzione di questo bellissimo castello Come vedete sono andato leggermente avanti Qua il portone l'ho fatto con questa pietra molto molto carina secondo me E l'effetto tutto sommato mi pare abbastanza figo Ho fatto la torre di sinistra, dovremo ovviamente andare a fare le altre due Oggi quindi andremo a finire il castello Mentre qua sotto i sotterranei ovviamente si sono espansi dal momento che ho preso altra pietra E non lo so ragazzi per ora semplicemente direi che possiamo chiudere con della terra in questo modo Se poi in futuro vorremmo espandere il nostro castello sappiamo cosa fare insomma A questo punto però demoliamo qua i lati del nostro muro e procediamo con la costruzione della torre Qua mettiamo la terra in modo da fare una sorta di sostegno Pietra qua e iniziamo a salire Ultimo strato e chiudiamo per fare il tetto Uno qua, uno qua, di qui e anche qua In realtà sarebbe figo anche con le scale solo da un lato Però non lo so ragazzi No no meglio fare le cose simmetriche fatte bene Dobbiamo fare la stessa identica cosa anche con l'ultima torre Facciamo altre scale, prendiamo altra pietra E ripetiamo esattamente quello che abbiamo appena fatto Ok qua non dovevo spaccare Mettiamo altra pietra In realtà ragazzi questa torre si potrebbe fare anche diversamente Pensavo di fare una cosa di questo genere Mettendo tipo le scale così Tac, tac, tac Qui le metto così E qui la metto così Teoricamente poi la torre dovrebbe venire sopra e dovrebbe venire una cosa molto molto carina Dobbiamo fare tutto il giro per rientrare ma dettagli Allora qua sicuramente ci va della pietra Dai alla fin fine si sta rivelando più facile del previsto Facciamo ovviamente qua i pennacchi in questo modo Tac e tac E la nostra ultima torre è completata C'è un problema però le torri sono al buio Come le illuminiamo non lo so Perché mettere delle torce qua è completamente antiestetico Direi che le possiamo mettere così Magari senza cadere eh Oddio uno zombie villagge No 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 Idea 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 ragazzi Vieni zombie vieni zombie Allora Allora dobbiamo intrappolarlo ragazzi Come facciamo così a caso Ok sarà più difficile del previsto Calmo Yaki recupera la vita Yaki Vediamo se riusciamo a intrappolarlo No 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 Via 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 Ok ok abbiamo un piano questo è l'importante Noi saliamo qua Così lui dovrebbe venire Dai vieni zombie Oh Il tutto ragazzi con mezzo cuore Mamma mia Perché non viene Mamma mia Oh Piccolo zombie vieni da papà Ok Adesso dobbiamo semplicemente chiudere lì Sei in trappola ciccio pasticcio E noi possiamo levare il disturbo così No scherzavo no 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 Fermi tutti si è buggato e non mi sta colpendo Ce la posso fare ce la posso fare Dai Johnny vieni Ci sei o ci fai Lo sapevo che andava a finire così Lo sapevo Guardate che bello però dalla lontananza il nostro castello Allora allora tu devi stare qua Allora ragazzi con un po' di impegno so che ce la possiamo fare Hola Intrappolato Per non fare fail noi ce ne andiamo così Andiamo a richiudere il tutto con la massima cautela E il nostro zombie ragazzi è intrappolato con successo Ora perché fondamentalmente ho deciso di intrappolarlo Intanto è meglio se riprendo la mia roba direi Perché semplicemente è uno zombie villaggero E se non sbaglio attraverso una serie di pozioni e cose varie Si riesce a trasformare in un villaggero normale Quindi visto che il villaggio che ho trovato è abbastanza lontano Ci basterà trovare un altro zombie villaggero Intrappolarlo e trasformare tutti questi due zombie villaggeri in villaggeri Dopodiché loro piano piano si riprodurranno E qui all'interno del castello Potrà crearsi un nuovo villaggio in miniatura Poiché si riprodurranno come tutti gli esseri viventi Stavamo però parlando di illuminazione Quindi andiamo a mettere le torce sulle nostre torri Credo che questa ragazzi sia la parte più noiosa di questo castello Anzi senza il credo ragazzi Perché continuo a cadere ragazzi Ce la posso fare E anche questa è fatta ragazzi Guardate che belline le torri con tutte le torce sopra Adesso dovrò aspettare la notte Dovrò cercare un altro zombie villaggero E intrappolarlo come questo qui Ciao bellissimo Togliamo qua tutto questo ambaradam E cosa non da poco Devo anche cercare come cacchio si fa a trasformare questo coso orribile In un adorabile e affidabile villaggero Quindi ci vediamo tra pochissimo Ok ragazzi è passato un po' di tempo Come vedete ho costruito delle casette qua all'interno Per ospitare i nostri villaggeri Ho fatto delle cose molto molto semplici Con il poco legno che avevo Niente di che devono essere solo delle piccole residenze Però comunque mi sembrano abbastanza carine All'interno non è che ci sia sto granché Dopodiché cosa molto molto importante Ho messo le porte in ferro Perché per chi non lo sapesse i villaggeri Sono in grado di aprire le porte Ma non le porte in ferro E nel dubbio ho tolto le scalapioli Perché non mi ricordavo se i villaggeri potessero scalarle o no Quindi nel dubbio Meglio essere sicuri che rischiare di perdere villaggeri in giro Per quanto riguarda più concretamente gli abitanti Il nostro amico zombie villager è ancora qua Purtroppo non sono ancora riuscito a trovargli un compagno Perché ho passato tre notti in giro E non ho trovato nessun altro zombie villager Prima o poi ragazzi ne troveremo uno Però intanto proviamo a trasformare questo qua Allora premetto che io sono scarsissimo in fatto di pozioni Quindi non arrestatemi per questo Però ci servirà una pozione della debolezza Da dare al nostro zombie E una mela d'oro da dare successivamente La pozione della debolezza si fa nell'alambicco Che è questo qua E bisogna riempirla con Con un occhio di ragno fermentato Allora 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 facciamo il nostro occhio fermentato Poi dobbiamo riempire la nostra bottiglia Che dovrebbe essere Sì così si fa Ta daaaan Pozione fatta ragazzi La mela d'oro ce l'abbiamo già pronta Quindi dobbiamo solo sperare che funzioni Siete pronti ragazzi? Mandiamo la pozione della debolezza Ok dovrebbe andare Gli diamo la mela d'oro tenendo premuto credo E non succede niente ragazzi Teoricamente ci dovrebbe volere un po' di tempo Quindi aspettiamo con le dita incrociate ragazzi Dai veloce villager Dai so che ce la puoi fare So che puoi liberarti da questo demonio Sì 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 Siamo riusciti ragazzi Esperimento riuscito Quindi ragazzi Abbiamo finito il castello Abbiamo fatto una sorta di piccolo villaggio all'interno Con il suo primo abitante Che siamo riusciti a trasformare Al quale ovviamente al più presto Dovremmo trovare un compagno In modo che possano Copulare felici e contenti Ovviamente il tutto Sperando che in un prossimo aggiornamento Di Minecraft Pocket Edition Questi villageri Possano essere utili per altre cose Mi raccomando Scrivetemi nei commenti Qualche consiglio Qualche cosa che potrei costruire O tutto quello che volete E niente ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo Video Dovremmo Dovremmo